Un bilancio positivo per l'anno 2017, quello della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Nonostante la sezione regionale di controllo e la Procura abbiano dovuto operare con limitate risorse finanziarie e con un organico ridotto. Dati snocciolati dal presidente della sezione giurisdizionale Tommaso Miele nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Siamo andati addirittura ben oltre i dati degli altri anni. Abbiamo superato sicuramente i 140 giudizi, sicuramente non tutti conclusisi con condanna, ma noi siamo qui a fare i giudici. Quindi non è che dobbiamo solo condannare. Se invece vediamo che in taluni casi magari c'è stato un danno, ma non c'è stata la colpa grave, nemmeno che mai il dolo, assolviamo. Quindi ci sono stati tantissimi giudizi, di questo diamo atto alla Procura regionale. Diverse le fattispecie più dannose sottoposte al giudizio della sezione, alcune riguardanti amministratori comunali, in un altro caso un dirigente medico. Ma secondo il presidente Miele la pubblica amministrazione che ben opera non ha nulla da temere. Ma sicuramente è qui il terremoto che è stato un evento eccezionale, diciamo ha comportato la gestione di un'emergenza sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto il profilo della ricostruzione. Quindi gestione anche di risorse pubbliche ingenti, gestione di finanziamenti, di contributi per la ricostruzione, di cui noi pure spesso ci occupiamo. Sicuramente le amministrazioni hanno fatto il possibile. Ci sono stati anche dei casi che sono venuti alla nostra attenzione, sono tante fattispecie di responsabilità amministrativa, di illecita percezione di contributi per la gestione, per la ricostruzione post-sisma del 2009. Per i giudizi pensionistici la Corte ha zerato il proprio arretrato, soddisfando le istanze in tempi brevi. La giurisdizione pensionistica rispetto agli altri anni è stata pressoché azzerata. Di questo ringrazio particolarmente i miei colleghi e tutto il personale amministrativo che veramente ha lavorato tantissimo.